ecco qua ecco qua adesso siamo sempre sapete che io amo i tristini sono amico dei tristini però questa la possiamo fare così praticamente questi amici tristini vanno a fare una sciata si fermano in una baita a mangiare c'era questo cameriere un po' di una certa età a un certo punto che arriva buongiorno a lui allora noi come mangiare abbiamo cinghiale come prima abbiamo la pasta suda ecco poi abbiamo consumi un brodin con tortellini o senza e dopo fricco e robe furlane sa allora vogliamo facciamo una roba per me e mi da un fricco e per la mia signora può darmi anche un brodin però senza tortellini va bene e se lo trova la riporta al fricco e il brodin la signora nel piatto con la fungina col dito dentro ecco qua signora insomma cosa fai io cosa fai io col dito col dito dentro al brodo ma generava vergoniosissima no generava una porcheria no no che scusi anche perché il problema qua è un giradito nel pollice e il mio dito è di tignetti nel pollice al caldo no ecco capito al caldo che se te lo metti su per il culo si ma fin prima lo avevo nel culo ah 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 Grazie a tutti